Abbiamo messo via la Champions, si sono già giocati i quarti di finale, li abbiamo analizzati, li abbiamo discussi e quindi torniamo con il focus principale sulla Juventus perché si avvicina terribilmente la gara contro il Bologna e noi dobbiamo assolutamente cercare di dare continuità al risultato positivo dell'ultima gara per concludere al meglio questa tribolatissima stagione di Serie A perché basta un niente come è successo l'anno scorso quando ti ritrovavi a questo punto della stagione pienamente dentro alla corsa della Champions League bastano due partite fatte male e dopo ne rimangono quattro e dopo devi rincastrare tutto, rincorrere, sperare che gli altri si fermino, non ne voglio sapere, devi fare come l'anno scorso non ne voglio sapere. E quindi oggi parliamo di Juve, parliamo soprattutto del futuro della Juventus, quindi della Juventus che verrà con un occhio a quella che sarà la partita appunto di sabato pomeriggio. Intanto ve lo dico subito, nel pomeriggio se volete facciamo un approfondimento su Sergei Milinkovic-Savic, anche ieri vi ho postato un dubbio che ho e quindi mi avete risposto in tanti, ve lo ripropongo. Oggi pomeriggio facciamo una sorta di analisi di quella che dovrebbe essere la struttura della squadra di Allegri, la posizione eventuale che ho in testa per Milinkovic-Savic. Intanto vi ripropongo questa domanda, secondo voi Allegri dove lo utilizzerà, in che modulo e in che ruolo? Perché io ho una malassana idea in testa, devo cercare di incastrare due o tre cose, devo preparare il contenuto, poi voglio condividere con voi questa analisi, potrei anche averci visto giusto. Ad ogni modo di Milinkovic-Savic ci parliamo all'interno di questo video. Ci sono delle novità, lato mercato, finalmente oh, allora ieri sera Romeone Agresti cosa fa? Twitta e dice per in accordo totale il rinnovo si farà, l'intesa c'è tra Juventus e il giocatore, il giocatore è felice di rimanere a Torino fino al 2025. Immagino un rinnovo a ribasso come tutti quelli che sta proponendo la Juventus in queste ultime settimane. Quello di Dybala lo sappiamo, è la prima vera ufficialità della Juventus del futuro, quindi Dybala non farà parte della Juve. Infatti ieri sera ho chiesto a loro, anzi ve la ripropongo, allora chi vi immaginate che uscirà dalla Juve l'anno prossimo? E tutti i ragazzi che mi rispondevano non mettevano Dybala, perché ormai è stata una notizia digerita, sappiamo tutti che Dybala non farà parte della Juve dell'anno prossimo. Ma quindi vuol dire che esce e in tutte le liste delle eccessioni Dybala non compariva, questa cosa mi ha fatto ridere. Quindi Perin dovrebbe rimanere, la Juventus va a tutelarsi con un secondo portiere affidabile, esperto ormai, mi viene da dire, essendo coetaneo di Perin, classe 92, abbiamo 30 anni, caro Mattia, lo so, quindi esperto adesso è l'aggettivo che ci viene affiancato, purtroppo, capita per tutti. De Sciglio, sempre un altro 1992, ma guardate che quell'anno lì, spornato dei talenti incredibili i ragazzi miei, dovrebbe rinnovare pure lui, è probabile, abbiamo già parlato, sapete anche già la mia posizione a riguardo. Di Quadrado, abbiamo parlato qualche giorno fa, dovrebbe spalmare, perché è scattata l'opzione per il rinnovo automatico dopo le 40 partite stagionali. L'altro giorno un ragazzo mi chiedeva perché mai Quadrado dovrebbe accettare di spalmare questi milioni in un anno, in due stagioni? Beh, principalmente per due motivi. La prima è non ritrovarsi svincolato tra un'altra stagione, ma avere la certezza di rimanere a Torino, alla Juventus, dove lui vorrebbe stare per due stagioni. Quadrado inizia ad essere vecchiotto, molto più esperto di Luca, di Perini e di De Sciglio e quindi avrebbe volontà di avere un po' più di certezza. Poi dall'altra parte è ovvio che ci può essere la trattativa, nel senso Quadrado può dire io sono pure disposto a spalmare questi 5 milioni in due anni, ma deve essere qualcosina di più e quindi Quadrado potrebbe dire dammene 7, dammene 8 e l'Iventus potrebbe dire te ne do 6 e mezzo, te ne do 6 e quindi a un certo punto potrebbero trovarsi di strada. L'idea è questi 5 milioni in un solo anno? No, quindi se li vuoi va bene, te li diamo, il secondo anno allora guadagni qualcosa di più, poi facciamo una media e te li spalmiamo sui due anni. Questa è l'idea della Juventus ed è una cosa che solitamente si fa spesso con i calciatori in età avanzata, quindi potrebbe essere qualcosina di più dei 5 milioni in due anni ovviamente, ma non di troppo, si sta parlando veramente di briciole per i calciatori, non per noi, per i calciatori, perché parlare di briciole su un milione di euro in due anni ho deglutito male perché mi è venuto male. Poi Bernardeschi, non ci sono novità, dovremmo mantenere questa linea del probabilmente Berna non rinnoverà. Attenzione perché queste erano le notizie che ci ha dato Romeo Agresti sui rinnovi, io vi parlo anche di Gianni Balzerini che ieri è venuto fuori con una provocazione su Alvaro Morata perché dice l'Atletico che ieri sera è uscito e è stato eliminato, non è intenzionato a fare sconti, non li vuole fare. 35 milioni di euro il riscatto di Alvaro Morata. E allora qua si parla dell'Arsenal, interessato al giocatore. La Juventus vorrebbe offrire qualcosa come una ventina di milioni di euro per il riscatto, considerato che già 20 li abbiamo pagati per i due anni di prestito. Lo andresti a pagare 40 milioni di euro. Alvaro Morata, anche lui, 1992. Che grandissima annata, signori. Il problema è che se l'Atletico vuole 35 sono un po' troppi i soldini e quindi potrebbe essere in uscita pure Alvaro Morata, sorpresa nonostante sembrasse uno dei giocatori più certi a questo punto dopo l'addio di Dybala di rimanere là davanti perché, intendiamoci, va via Bernardeschi, va via Dybala, va via Morata. Moise Ken, ci arriviamo. Chiesa rientra dal crociato. La Juventus davanti è un rebus. È un grandissimo rebus. Quindi vediamo perché anche Alvaro Morata in questo momento potrebbe essere tra i partenti. Rimaniamo nel presente perché c'è da giocare la partita col Bologna. Arturieri si è fatto male in allenamento. Non sarà disponibile probabilmente nemmeno per la partita con la Fiorentina in programma in Coppa Italia, mi pare, o martedì o mercoledì, verosimilmente mercoledì. E quindi sono pronti Rabbio e Zaccaria per essere i due mediani davanti alla difesa nel 4-2-3-1 o 4-4-2, che dir si voglia, un po' come è stata la partita con l'Inter dopo l'infortunio di Locatelli. In tanti parlano di Miretti come potenziale sostituto. Miretti anche lui ha qualche problemino fisico e quindi si sta allenando per cercare di recuperare ad ogni modo, anche con un Miretti al 128%, io non lo prendo in considerazione dal primo minuto, ormai penso che sia chiaro quello che è l'idea su certi ragazzi che non vogliono essere buttati, non i ragazzi, il discorso generale della società di Juventus, non si vuole buttare nella mischia questi ragazzi. Poi magari di necessità virtù lo dovremo fare nel caso in cui ci sarà un mal di testa di Rabbio durante la partita che dovrà chiedere il cambio. In quel caso potrebbe essere adattato Danilo a Jolly, però togli da una parte, togli dall'altra, poi il terzino sinistro-destro che te lo fa? Te lo va a fare a Desciglio. Insomma, la coperta è sempre un po' corta in questo momento e delle due piuttosto che spostare, adattare, fare, mi piacerebbe semplicemente vedere Miretti dentro. Tra l'altro partita col Bologna che mi fa ridere perché proprio l'anno scorso, che è stata l'ultima partita di Andrea Pirlo in panchina col Bologna, avevamo Danilo a centrocampo al fianco di Rabiot per via di tante assenze a centrocampo con Di Bale e Morata davanti, che ricordano un po' anche quello che è stato tutta la prima parte di stagione quest'anno. La differenza era sugli esterni con Chiesa-Kuluseski, dove si spingeva un po' di più rispetto a quelli che sono gli esterni di oggi. Senza Kuluseski ceduto, che è stato trasformato, tra virgolette, in Vlaovic e con Chiesa che purtroppo si è dovuto fermare per l'infortunio di cui siamo a conoscenza, la grande. C'era Cristiano Ronaldo in panchina, quest'anno non penso che potrebbe permetterci questa cosa, però mi faceva ridere il confronto con Danilo a centrocampo che potrebbe tornare fuori proprio adesso ancora al fianco di Rabiot nella partita proprio con il Bologna che l'anno scorso è stata l'ultima stagionale. Milinkovic-Savic, parliamo di Milinkovic-Savic che so che volete le informazioni su cose, non ce le ho, io vi riporto soltanto quello che leggo, ascolto, percepisco. L'Alastro lo lascerebbe partire, i tifosi dell'Alastro è da qualche anno che hanno la preoccupazione, la consapevolezza che comunque non potrà durare in eterno perché Milinkovic-Savic è un signor giocatore, è ambito e ovviamente la gran parte della carriera che ha passato la Lazio non è quella che sognano i calciatori perché i calciatori sognano di lottare per la conquista di trofei importanti, banalmente anche solo lo scudetto in Italia, Milinkovic-Savic non l'ha mai vinto, sarebbe ben volentieri disposto a sposare il progetto della Juventus per provare a rivincere almeno anche in Italia, poi proiettarsi anche sul lungo in Europa eventualmente per cercare quei traguardi lì che ad oggi ci sembrano tanto tanto lontani. Lotito sarebbe pure disposto a venderlo, chiede 60-70 milioni di euro, quindi meno rispetto agli 80-100 di un paio di stagioni fa, è ovvio che poi il giocatore invecchia, il Covid ha un po' invalidato quelli che erano i prezzi di mercato di qualche anno fa, Milinkovic-Savic sembra aver dato preferenza alla Juventus e per la Juventus diventa un vero e proprio obiettivo, lo ha detto la Gazzetta ai tempi con Giovanni Albanese, ieri ce l'ha ribadito Nicola Balice, l'ho visto in un video di Colpo Gobbo che diceva che la Juve ha l'intenzione di fare un grande colpo a centrocampo, anche Gianni Balzerini stesso ha confermato l'interesse nella Juventus per Savic e la volontà di Savic rivestire Juve, poi da qui a dire che Savic sarà della Juventus, ragazzi ce ne passa di acqua sotto i punti, però tanti giornalisti di tanti fonti diverse, tante testate differenti, mormorano di questi interessi Juventus-Milinkovic, addirittura si parla di contropartite per cercare di abbassare la richiesta economica di Lotito, i nomi sono sempre quelli che circolano Arthur perché è un giocatore che piace a Maurizio Sarri che era stato acquistato dalla Juventus all'epoca proprio perché Maurizio Sarri era allenatore, Rugani che da Sarri è stato allenato sia da noi, l'anno alla Juventus, sia nell'Empoli il suo primo anno in Serie A, e c'è pure McKennie, che McKennie ragazzi è incredibile, McKennie viene inserito come contropartita in ogni trattativa, la Roma per Savic, McKennie, la Last Premier, McKennie, se chiediamo un bappé al PSG nonostante la scadenza loro ci dicono va bene puoi parlarci ma ci dai McKennie, McKennie viene ficcato dentro dappertutto, McKennie dappertutto viene ficcato, io non riesco a capire povero Weston che è, perché, e vabbè però questo è, ad ogni modo la Lazio non sembra particolarmente interessata ad ottenere i cartellini ai calciatori, preferirebbe, e beh, come biasimarli, il Vildenaro, il cash come diceva una volta l'Utito, pagare moneta, vedere cammello, e diciamo che trattare con l'Utito non è per niente semplice, quindi vediamo che cosa succede, Milinkovic potrebbe davvero essere il futuro della Juventus dopo anni e anni, adesso vi dico questa che fa ridere, ieri entro su Youtube e c'è una miniatura di un video consigliato con Di Marzio che parla, Milinkovic di fianco come scritto esclusiva, la Juventus prenderà Milinkovic, ed era un video di tre anni fa, una roba del genere, per farvi capire questa telenovela, è un giocatore chiacchieratissimo da sempre, un giocatore che sicuramente andrebbe ad aiutare la Juve a sviluppare qualcosa di più anche in zona di rifinitura e in zona di conversione, perché noi abbiamo bisogno di aumentare il tasso tecnico lì negli ultimi metri, e ovviamente nel centrocampo, quindi Milinkovic andrebbe esattamente a farti questo, vediamo che cosa succede, concludo dicendo che sempre ieri nel video di Lellone, Nicola Balice ha fatto un collegamento che, mamma mia, oh che bello che è stato, quando mi ha detto, la Juventus sta monitorando raspadori non come erede di Dybala, ma come erede di Moise Ken, perché per la Juventus Ken ad oggi è un problema, perché non vuole spendere quella parte per il riscatto, si sta trovando l'intesa con Guardiola per spezzare il prestito l'anno prossimo e far prendere a raspadori quella zona, quindi l'attaccante di riserva, l'attaccante in più, il giovane da cullare e da inserire in organico, che è esattamente il video che vi ho portato qualche settimana fa, non con la mia idea dicendo beh secondo me è così, ma facendovi vedere in soldoni, e per soldoni intendo proprio soldoni a livello economico, che le due operazioni sarebbero molto simili e che quindi la Juventus potrebbe avere una preferenza nei confronti di raspadori piuttosto che di quella di Ken. Questo è stato il riassunto alla veloce di tutto quello che è accaduto nelle ultime 24 ore in casa Juventus, forse anche qualcosa di meno, qualche voce di mercato in out, soprattutto out, perché poi gli in saranno a seconda di quelli che entreranno, qualche informazione dal punto di vista medico-sanitario dei giocatori a disposizione, a centro campo siamo sempre meno, qualcosa di incredibile, ci vediamo oggi pomeriggio per l'idea che vi avevo lanciato su un link of the savage, fatemi sapere se siete curiosi di sapere quello che ho in mente.